Stretching del muscolo piriforme destro con la sedia. Posiziona la gamba sinistra sulla sedia e la gamba destra a formare un quattro con la caviglia appoggiata al ginocchio sinistro. Sentirai stretching vicino al gluteo destro. Se vuoi aumentare leggermente lo stretching non farai altro che portare verso di te il ginocchio sinistro. Ok, tutta la tua schiena è a terra, rilassata e il respiro assomiglia sempre di più all'onda del mare che viene e che va. Non c'è fretta e non c'è forza. Puoi poggiare anche le mani una sull'addome e una sul torace, facendo attenzione che sia solo la pancia a salire e a scendere. Grazie a tutti.